Nemmeno la pioggia ha fermato i cittadini di Vallefoglia quest'oggi qua presenti per la presentazione di una nuova associazione. Diversamente, i cittadini di Vallefoglia non si schierano né contro né a favore alle biodigestore, questo è il tema principale della giornata e della riunione. Chiedono soltanto di avere un po' di chiarezza dopo anche le notizie e le informazioni che sono uscite. Cittadini di Vallefoglia che ci sono qua riuniti hanno mantenuto le distanze di sicurezza, hanno tutti indossato la mascherina. Nella riunione pacifica che adesso andremo a sentire i protagonisti. La nostra associazione che si chiama Diversamente è stata costituita con l'intento di valorizzare e tutelare da un punto di vista ambientale, culturale e anche storico questa vallata dove viviamo e anche i centri abitati presenti. Abbiamo avuto un'accelerazione in questo processo a seguito delle informazioni ricevute dagli organi di stampa relativamente all'argomento biodigestore e abbiamo ritenuto nostro dovere informarci come cittadini e riteniamo anche un diritto nostro inalienabile quello di essere informati su un argomento così importante ed anche impattante per la nostra qualità della vita attuale e futura. Proprio per questa esigenza di essere informati abbiamo inviato nei giorni scorsi una PEC al comune di Vallefoglia alla provincia di Pesaro Urbino e a Marche Multiservizi anche se il sindaco di Vallefoglia ripetutamente in diverse sedi ha ripetuto che non esiste nulla di ufficiale ma noi siamo interessati, molto interessati anche alla parte ufficiosa che riguarda questi progetti per poter essere in grado di valutare le opportunità o le minacce, i punti di forza, i punti di debolezza per avere un confronto sereno una volta che le informazioni siano disponibili a tutti i soggetti e noi vogliamo essere un soggetto attivo di questa decisione. Oggi come presentazione della nostra associazione ha parlato il signor Andrea Torcoletti a riguardo di tutti noi, giustamente fa delle domande ben precise su quello che può succedere nella nostra zona ancora non sappiamo nulla di certo però chi dice mena per primo mena due volte e oltre a questa cosa qui che non andiamo sulle polemiche volevo ringraziare tutta la gente che è intervenuta veramente di cuore di qualsiasi provenienza politica che questa qui non è di politica questa è una cosa dei cittadini, ogni persona che vuole aderire è ben vista e ben voluta, questa è la cosa più importante per noi, qualsiasi cosa che dopo può succedere.